Tra le righe incontro con l'autore, anche questa settimana vi presentiamo un lavoro che ha come argomento un tema molto interessante. Lui era davvero innamorato di San Francesco d'Assisi, è vissuto tutte le vacanze e le passava d'Assisi. È ora di vedere Gesù, perché questo è il titolo di Don Federico Tartaglia, edito da Ancora Edizioni, perché tu fai anche un omaggio a un grande del calcio italiano, diciamolo chi è. E certamente, Gigi Riva. Hai scelto appunto questo argomento così vario, ma anche affascinante quello dei social. Come mai, come nasce l'idea di questo libro? A volte io, rinimprovero, pongo questa domanda ai titoli. Senti, ma da quant'è che non abbracci il tuo figlio? Ma è importante che ogni persona si senta amata. Noi giudichiamo le persone in base ai ruoli oppure a quello che hanno fatto nella vita. Grazie, ricordo i nostri telespettatori, per rivedere l'appuntamento di Tra le Righe, potete visitare il nostro canale YouTube Padre Pio TV. Grazie ancora, alla prossima.